Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui con me di FuffGamer Oggi parleremo di un altro primo piatto molto tipico della regione Lombardia Insieme alla cosaletta e al panettone, ovvero il risotto alla milanese Gli ingredienti per prepararli sono 320 grammi di riso, 60 grammi di formaggio grattugiato, 60 grammi di burro, 20 grammi di mitolo di vitello, 1 litro di brodo di carne Una cipolla e una bustina di zaffarano Il procedimento è, in una casseruola si lascia fondere i 30 grammi di burro Che poi gli altri 30 ci trovano per passaggio successivo E si aggiunge, allo suegendo, si lascia fondere il burro con il medollo E si aggiunge la cipolla tritata finemente A fiamma bassissima si fa diventare trasparente E poi si unisce il riso mescolandolo in modo che assorbi il condimento Dove diventa poi man mano liquido E lucido, lucido, scusate E poi si porta a metà cottura Versando in un mestolo il brodo Un po' di brodo Dopodichè si aggiunge lo zaffarano con due cucchiai di brodo Con uno o due cucchiai di brodo E si termina di cuocere Aggiungendo sempre un mestolo di brodo alla volta Si toglie il risotto e si emandecate con il restante burro E poi si insaporisce con il formaggio vettugiato che preferite voi Quindi ragazzi Mi raccomando Un bel pollicione in su E prima di terminare il video Vorrei salutare un po' gli iscritti Soprattutto A PS2 Forever Magnus Melcar09 Videogiocytube E tutti gli altri che Seguite il canale Quindi per questo video è tutto E ci vediamo al prossimo Ciao a io Ciao a io Ciao a io Ciao a io